Ciao a tutti e benvenuti. Parliamo in questo webinar di BookWidget, la migliore applicazione per fare quello che dobbiamo fare, cioè costruire delle verifiche altamente creative, pedagogicamente rilevanti, con la possibilità di controllare a distanza, in diretta, quello che gli studenti stanno facendo. Quindi ci occupiamo di creatività e tecnica di BookWidget, costruire un test a split view in particolare, distribuirlo anche in Glassroom di Google e controllarlo a distanza. Per prima cosa provate a giocare a questo gioco del tiramisù, che è un test a split view creato con una delle opzioni particolari di BookWidget, che è proprio la creazione di verifiche a split view. Per giocare potete semplicemente inquadrare il QR code, oppure accedere con le indicazioni che compaiono qua, sulla sinistra. Il widget si presenta in questo modo, avete dei riferimenti, delle risorse che vi consentono poi di rispondere alla verifica che si trova invece sulla parte destra, ma non aggiungo altro, provate e vi fate un'idea delle potenzialità di BookWidget, in particolare dell'utilizzo dello split view. In secondo luogo vi dico che ci sono dei webinar e degli interventi che ho creato correlati a BookWidget, voi li trovate nel mio canale YouTube, che si chiama youtubealberto.it, all'interno del quale trovate una playlist che si chiama BookWidget, eccola qua, BookWidget didattica con widget. Questa playlist sarà arricchita mano a mano che formulerò degli interventi e dei webinar su questo tema. Infine, webinar e interventi correlati sempre con BookWidget, all'interno di WeSchool, che è una piattaforma a disposizione di tutti gli insegnanti, io ho creato una classe che si chiama Webinar. Voi vi potete iscrivere a questa classe, all'interno di questa classe trovate nelle board, una board specifica dedicata a BookWidget. Che cosa contiene questa classe? Questa classe contiene i webinar che io erogo, gli interventi che faccio, quindi tutti i video, che sono ovviamente anche in YouTube, ma con la possibilità di avere a disposizione anche risorse, come le slide corredate a questi webinar e questi interventi, altri tipi di risorse e poi dei forum dove possiamo discutere. Detto questo, ecco che parliamo di questo webinar che è centrato su BookWidget. Per prima cosa ci occupiamo delle opzioni pedagogiche e creative di BookWidget, cioè quello che si può fare con BookWidget è perché ha una valenza pedagogica e didattica. Poi ci occupiamo della analisi di un test a split view, un test già pronto, che è quello del termine su che vi ho presentato prima. Vedremo come è composto questo test. Poi lo creiamo, il test a split view. Vediamo quali sono le opzioni e i meccanismi di creazione di un test di questo genere. A questo punto, dopo averlo creato, lo dovremo somministrare, sia liberamente, cioè diffondendolo a tutti attraverso le opzioni che BookWidget ci presenta, che attraverso Classroom. Infine, l'ultimo argomento riguarda il fatto che, novità introdotta molto recentemente, possiamo controllare a distanza, in tempo reale, attraverso la funzione live, quello che gli studenti stanno facendo durante la compilazione del test. In questa pagina ho raccolto gli screenshot delle funzioni che BookWidget presenta. Come vedete, queste funzioni sono numerose. Ogni icona di diverso colore, che voi trovate qui all'interno, rappresenta una modalità di test, una modalità di verifica. Abbiamo una sezione che raccoglie i test classici, dai quiz allo split view, al web quest, eccetera. Abbiamo poi una sezione che raccoglie i test e le verifiche che utilizzano fortemente immagini, video e si possono quindi creare delle verifiche che hanno anche al loro interno degli elementi, per esempio 3D. Poi abbiamo una sezione di funzioni matematiche, semplicemente aritmetiche, oppure anche legate a fogli di calcolo, a rappresentazioni grafiche, a rappresentazioni su piani cartesiani. E dobbiamo anche dire che BookWidget è compatibile con Latex, quindi l'insegnante può scrivere tranquillamente le sue formule. Ci sono dei widget particolarmente dedicati al gioco, quindi a elementi di gamification all'interno dell'apprendimento e delle procedure didattiche di insegnamento. Questi possono andare da cruciverba al gioco dell'impiccato, costruzione di mappe mentali e così via. Poi ci sono una serie di widget che presentano la possibilità di incorporare al loro interno degli elementi esterni, come le mappe di Google, come dei PDF che si possono vedere all'interno del widget stesso, o addirittura di interi siti internet. Molto interessante questa opzione per poter associare le risorse a una verifica. Poi ci sono anche altre varie opzioni perché BookWidget resta un programma che si è molto sviluppato negli ultimi anni e che continua il suo sviluppo. Ora diamo un'occhiata all'applicazione e vediamo che ognuno di questi elementi presenta degli esempi. Entriamo nel nostro account di BookWidget. Nella sezione Widget abbiamo raccolto i nostri widget all'interno di cartelle, qualcuno esterno perché magari ci stiamo lavorando. Le cartelle si raccolgono con questa opzione e poi il widget invece si crea attraverso questo pulsante. Però prima di addentrarci nella creazione di un widget vediamo alcuni esempi. Vedete? Trovate gli esempi proprio qui, in questa colonna. Quindi facciamo clic ed ecco che le schermate che vi ho presentato prima corrispondono proprio a questa pagina. Quando voi siete attratti da una di queste opzioni, per esempio la costruzione di un widget fondato sulla timeline, potete vedere degli esempi. In che modo? Dovete fare clic sulla linguetta posta qui a sinistra e poi scegliere per esempio... la storia. Qui abbiamo una storia che è rappresentata attraverso una timeline. Quindi è uno strumento di studio, è un modo di presentare delle risorse, dei contenuti agli studenti. restiamo sempre nella timeline e vediamo invece un modo diverso di utilizzare lo stesso widget. Parliamo di guerra. In questo caso abbiamo un primo elemento che è stato collocato dal docente, l'immagine di sfondo, ma poi si possono aggiungere altri elementi attraverso questa funzione. Quindi sarà lo studente a completare questa timeline con una descrizione, potrà anche aggiungere delle immagini. Tutti gli esempi che vengono presentati in questa pagina hanno la possibilità di essere copiati all'interno del proprio account. Quindi se vi piace come impostate, in questo caso, questa timeline, la potete copiare e la ritroverete inserita tra i vostri widget, dove ovviamente la potrete poi modificare e cambiare. Noi questo lo faremo tra poco con lo split view, che è il modello che abbiamo scelto per mostrarvi le funzioni di BookWidget in questo webinar. Vediamo un altro esempio, il webquest. Il webquest presenta un argomento strutturato e guida lo studente nel suo studio oppure nella realizzazione di un webquest analogo. Vedete che qui sotto ci sono gli step di questo webquest, quindi l'introduzione, poi le task, quindi i compiti dello studente, il processo che è diviso in una serie di momenti. Notate che questa immagine ci dice che all'interno di questo BookWid, si trova un altro widget che, quindi per esempio la funzione webquest ci consente di inserire degli altri widget che noi abbiamo preparato e li possiamo in questo modo combinare insieme per creare una verifica o per sottoporre agli studenti un documento di studio che è composto da differenti parti, come in questo caso. Proviamo a fare clic e vedete che siamo passati a un altro widget che è uno slideshow che ci mostra delle immagini con una didascalia. E così invece siamo ritornati al nostro webquest. Poi ovviamente ci sono link, ecco questo per esempio è un quiz. Dobbiamo ovviamente dare una risposta, ci sono diverse funzioni. Quindi notate che noi siamo passati a un altro widget mentre stavamo costruendo il nostro webquest. Poi con questo pulsantino torniamo indietro. Vi ricordo che siamo sempre lato studente qui, cioè stiamo vedendo degli esempi di widget costruiti per essere somministrati. Questo è un puzzle, sono molto carini i puzzle, ancorché ovviamente bisogna saperli risolvere. Un processo di valutazione, questa è una tabella, questa tabella raccoglie delle informazioni che possono essere poi calcolate. e questo è il questionario finale che è possibile inserire attraverso un altro tipo di widget sempre all'interno di questo. Quindi abbiamo capito che ci sono tante tipologie di widget e alcune di queste tipologie possono essere combinate fra di loro. vedete nei giochi, ecco, per esempio il cruciverba è molto carino poi contengono degli elementi di flessibilità che permettono alle componenti di un widget di potersi adattare in base al dispositivo che viene utilizzato. ci sono widget basati su immagini, su filmati, costruzioni di animazioni, insomma sono veramente da esplorare. 3D, molto interessante perché possiamo inserire all'interno per esempio di un webquest oppure di un test dove si vogliono esaminare anche dei particolari possiamo aggiungere un widget per la rappresentazione di immagini in 3D. La sezione matematica, quella di cui vi ho parlato poc'anzi che riguarda l'embedding che si può fare all'interno dei widget di determinati elementi direttamente presi per esempio da Wikipedia piuttosto che da altri siti o addirittura lettori di PDF. Quindi il mio suggerimento è veramente dare un'occhiata a questa parte che vi ricordo si trova negli esempi sotto questa sezione widget. Ora torniamo nella sezione principale widget e ci richiamo all'interno di MyWidget cioè del posto dove vengono raccolti i widget che abbiamo creato. C'è una cartella che si chiama Didattica che è fatta apposta per questo webinar e altri rivolti agli insegnanti. Il widget di cui ci occupiamo è questo, è Tiramisù però dobbiamo fare attenzione perché questo widget è venuto proprio bene non solo qualcuno l'ha svolto ma ha anche creato la ricetta e mi ha scritto che la ricetta è molto buona e quindi io non lo vorrei rovinare. Allora cosa faccio? Corro lungo questa linea e creerò un duplicato. Intanto però vi mostro che show permette di vedere il lavoro che è stato fatto lato studente, edit ci consente di modificarlo lo possiamo duplicare, ovviamente lo possiamo spostare lo possiamo anche condividere e cancellare. Questi numerini, shortcode, che si riferiscono a ciascun widget sono le sigle identificative, i codici che ci permettono di giocare con questo widget quindi di fuirne nel caso in cui utilizzassimo un'applicazione quindi l'applicazione per esempio per iPad oppure ci recassimo su internet e semplicemente al sito di Bookwidget e volessimo provare a svolgere un compito allora basta inserire questo codice. Allora torniamo a noi il tiramisù e certamente noi ne creiamo un duplicato dove lo vogliamo collocare il duplicato insieme a questi widget ma certo, duplicalo proprio qui e vedete che siamo arrivati nella struttura del widget la prima cosa che dobbiamo fare è cambiare è cambiare questo titolo perché non lo vogliamo confondere con l'altro widget quindi io scriverò poi cancellami quindi il widget sul quale noi lavoreremo si chiamerà poi cancellami dunque vediamo com'è strutturato il widget vedete che è sulla sinistra ci sono gli elementi della struttura e poi sulla destra compariranno i sottomenu che riguardano ogni capitolo vediamo di che cosa si tratta vi ricordo che abbiamo scelto un widget Split View il widget Split View presenta questa caratteristica di essere suddiviso guardiamo subito nel preview ecco il preview ci mostra lo stato dell'arte del nostro widget lato studente cioè chi ne deve fruire vedete questa è la divisione in due parti dello Split View nella parte di sinistra ci sono le informazioni utili per fare che cosa? per rispondere alle domande che sono e ai giochi perché io parlo di domande ma in realtà si tratta di sistemi molto creativi di presentare le verifiche agli studenti ecco queste verifiche sono raccolte nella parte destra quindi lo Split View ha proprio lo scopo di consentire allo studente di cercare le sue informazioni non vado oltre questo argomento perché ho già dedicato un webinar per spiegare qual è la pedagogia dello Split View e l'ho indicato anche all'inizio di questa presentazione allora avete visto? siamo in modalità preview che effettivamente è una modalità precisa perché il tempo sta scorrendo abbiamo deciso di inserire anche una calcolatrice perché c'è una parte matematica e quindi gli studenti potrebbero aver bisogno di uno strumento di questo tipo poi vedete che abbiamo consentito di scaricare anche il pdf di questo Split View e quindi interessante perché così lo studente se lo può riguardare non stando se ne ha il computer ma ci può ragionare lo può incollare sui quadernoni eccetera abbiamo inserito anche la possibilità di condividerlo perché potrebbe essere interessante favorire una cooperazione in classe oppure semplicemente dare la possibilità allo studente di inviarlo a qualche d'uno e anche qui c'è con questa bustina mail l'invio della verifica al docente per esempio però non è questa la modalità che poi vedremo per condividere la verifica con il docente che la dovrà correggere quello che mi interessava farvi notare è che come è composto proprio lo Split View perché adesso ne vedremo la struttura vedete che qui c'è ciao, benvenuto in questo video c'è un video, ci sono delle immagini e qui le diverse tipologie queste due parti sono rappresentate nello Split View attraverso due opzioni differenti una si chiama questioni, domande ecco le domande vengono inserite qui quando noi aggiungiamo una questione ci vengono presentate le possibilità che questa tipologia di widget propone per stabilire la varietà delle domande che possiamo aggiungere allo widget stesso vedete ce n'è tante è una bella varietà la parte che contiene le risorse invece è in text è sotto le domande vedete domande e text queste sono le due parti questa è quella che sta sulla destra e questa invece è sulla sinistra in una modalità di testo che sarebbe una specie di equivalente del famoso doc che però non è proprietario il rec test è una modalità di formattazione che tutti possono riconoscere ed è anche poi molto utilizzata nell'HTML 5 quindi possiamo scrivere naturalmente e poi formattare inserire degli elementi per esempio dei video delle immagini possiamo anche registrare un file audio proprio così direttamente come abbiamo fatto qua ciao record perché altrimenti lo potremmo scegliere perché l'abbiamo magari già registrato e si trova nel nostro computer altrimenti lo registriamo quando siamo pronti partiamo ciao ragazzi cercate di svolgere con grande attenzione questo test mi raccomando fine della registrazione ascoltiamo si è andata bene ciao ragazzi cercate di svolgere assolutamente fantastica e quindi ecco che si può inserire l'abbiamo inserito l'audio registrato poi c'è il test poi abbiamo nuovi collegamenti e così via quindi questa è la parte che fornisce allo studente le informazioni affinché possa poi svolgere la verifica adesso vediamo quali tipologie di verifiche abbiamo inserito come si fa quando aggiungiamo una domanda e naturalmente qui avremo una riga vuota vediamo come è stata riempita bene intanto il titolo chiaramente e poi siccome abbiamo scelto una tipologia che si chiama a scelta multipla voi trovate il titolo della tipologia sempre qui collocato sulla sinistra in alto non abbiamo dovuto far altro che aggiungere le nostre risposte e poi stabilire semplicemente qual era quella corretta poi abbiamo delle opzioni che possiamo gestire per esempio se vogliamo che queste risposte siano organizzate casualmente multicolonna multicolonna è carino una bella grafica poi possiamo aggiungere degli elementi audio possiamo aggiungere delle immagini possiamo stabilire l'opzione che riguarda la valutazione ora quale punteggio noi possiamo assegnare alla risposta a questa verifica in questo caso io l'ho stabilito in 1,5 poi quando abbiamo finito possiamo vedere nel preview come tutto il widget non solo la parte che abbiamo compilato si presenta era questo origine del tiramisù e questo infatti è quella che abbiamo aggiunto noi facciamo click non succede niente cioè non viene dato allo studente subito un feedback sulla correttezza della sua risposta ma eventualmente noi lo potremmo fare cioè potremmo dire a widget che la risposta a questo widget a questa verifica avviene immediatamente quindi può subito valutare la correttezza del suo lavoro poi chiudiamo e quindi torniamo alle nostre domande quindi la prima è questa la seconda completa la frase la tipologia è questa fill in the blank questions questo è il titolo questo è il testo vedete che dentro il testo abbiamo inserito delle parole racchiuse tra due virgolette per esempio si può fare così con la tastiera scegliete i due segni togliete magari anche solo una parte di una parola quindi vuol dire che lo studente qui dovrà scrivere prepa perché possiamo rare e qui naturalmente ci sarà uno spazio bianco all'interno del quale lui scriverà prepa vediamo nel preview il risultato di questa modifica dove l'abbiamo messa eccolo qua rare e qui naturalmente lui dovrà scrivere prepa è ovvio che non ha molto senso questa proposta ma era per mostrarvi come funziona notate che per ogni domanda appare il punteggio totale ma non appare subito ovviamente il punteggio perché in questo caso abbiamo scelto di mostrare i punti solo alla fine i punti generali allora torniamo alla modalità struttura guardiamo che abbiamo scelto un basso punteggio per ogni scrittura corretta all'interno delle caselline bianche per questo il punteggio totale era di due punti qualche cosa perché ti abbiamo detto che ogni risposta corretta ogni singola risposta corretta all'interno degli spazi bianchi vale 0,20 vediamo altre tipologie metti in ordine le frasi della ricetta in questo caso abbiamo una modalità che è basata sull'ordine delle parole qui noi impostiamo sempre il titolo della domanda e poi inseriamo nell'ordine corretto le parole i termini i numeri quello che volete voi perché poi il widget penserà a mescolare quest'ordine e lo studente lo dovrà ricreare va molto bene per questa ricetta montare la panna aggiungere zucchero e così via vediamo nel preview metti in ordine si presenta in questo modo abbiamo detto che la prima cosa era montare la panna quindi la dobbiamo spostare poi veramente io questa ricetta non l'ho fatta e quindi vi dirò che non l'ho neanche letta quasi quasi e dunque non saprei dirvi per cui dobbiamo ritornare giocoforza alla modalità struttura vediamo come sono organizzati i punteggi qui abbiamo un'opzione diversa abbiamo 0,25 che si riferirà evidentemente a ogni singolo elemento nella posizione corretta perché infatti abbiamo scelto proprio questo abbiamo scelto che ogni elemento che è stato collocato correttamente riceverà 0,25 altrimenti possiamo stabilire un punteggio generale per solo che è determinato dal fatto che tutti i componenti siano nell'ordine corretto a volte le domande all'interno di un widget prevedono quindi diverse modalità per l'attribuzione dei punteggi vediamo un'altra associa le parole associa le parole è una modalità di verifica che è stata chiamata word match questions cioè associa appunto le parole fra di loro come funziona? funziona così la prima associazione la prima associazione è determinata dalla parola senza con uova quindi il widget si presenta su due colonne destra e sinistra dove collocherà le parole che noi abbiamo associato con panna montata nel sac à poche ci metteremo la crema collocare che cosa nel frigo ovviamente adesso vediamo il solito preview cerchiamo associa le parole eccolo qua associa le parole abbiamo detto che era senza direi senza frigo perché sarebbe un po' indigesto un tiramisù con pezzi di frigo all'interno poi lo collochiamo sulla crema un bel tiramisù collocato sulla crema e poi insieme a mascarpone ci mettiamo anche il cacao ecco come si svolge questa tipologia di domanda ritorniamo sempre alle questioni vediamo una funzione matematica un tiramisù questo è il problema pesa 500 grammi un ristorante ne produce tre teglie eccetera eccetera abbiamo fornito gli elementi per risolvere un problema in questo caso un problema che verrà risolto anche attraverso l'utilizzo di una frazione la domanda di matematica può comprendere diversi stili che sono questi frazioni numeri matrici o vettori noi ne abbiamo scelto uno vediamo come si presenta ecco è questo un tiramisù pesa eccetera qua dovremmo inserire i dati perché poi l'operazione sarà questa non so se l'ho risolto correttamente spero di sì altrimenti non potrei mai aprire un ristorante un'altra funzione matematica è la numero 12 fra le varie domande inserite si dice anche se la cucina è matematica questa formula non c'entra nulla ma prova risolverla eccetera perché perché è stata scritta con le procedure simboliche di latex che è una modalità attraverso la quale gli insegnanti di matematica possono scrivere le loro formule quindi io non dico altro perché non è il mio campo questo però appare così la scrittura ma vediamo il preview il preview ci mostrerà ecco la formula corretta che cosa abbiamo inserito qui una lavagna perché lo studente dovrà dare una risposta quindi come se avesse il suo quaderno adesso io sto scrivendo con il mouse ma se avesse un tablet naturalmente sarebbe più agevolato siamo tornati al livello domande abbiamo visto quindi che ci sono tante tipologie che possiamo inserire e che sono tutte determinate da questa opzione aggiungi domanda vi ricordo che le domande che vengono mostrate in questa finestra e che sono numerose riguardano il tipo di domanda che può essere inserita in questo widget non tutte le domande possibili e immaginabili che book widget presenta le tipologie sono tantissime sono decine e decine in questo caso vedete anche sono parecchio numerose le potete tranquillamente provare e vedere che cosa succede dovete sapere che avete sempre una guida perché negli esempi quando avete dei dubbi troverete sempre la descrizione della domanda le sue caratteristiche come si può creare e anche degli esempi come vi ho mostrato prima che potete utilizzare adesso vediamo quali sono le opzioni specifiche del widget cioè dell'insieme di queste domande e del modo con cui può essere somministrato vediamo la prima sezione quella che si riferisce al titolo e alle opzioni di consegna del widget stesso in widget identification trovate la possibilità di scrivere il titolo che identifica il widget e poi anche il nome del gruppo di appartenenza questa opzione è interessante perché quando arriveranno le risposte saranno automaticamente associate a questo gruppo non c'è bisogno di creare un gruppo in qualche altra parte dell'applicazione nel momento in cui voi scrivete che il gruppo è in questo caso didattica a distanza vi troverete associate tutte le risposte in questo stesso gruppo sempre nella parte di identificazione del widget ci sono altre modalità molto interessanti che dovete conoscere per esempio la forma di sottomissione del widget alla conclusione del widget stesso apparirà o all'inizio dipende dai casi apparirà una forma di sottoscrizione che cosa deve contenere per esempio il nome dello studente visibile lo studente può scrivere o meno il suo nome e voi scrivete anche una frase che indichi quello che deve fare poi la mail dello studente vale lo stesso discorso l'id dello studente no perché viene attribuito automaticamente da bookwidget la classe id se volete potete renderla visibile o meno non ha importanza e qui voi scrivete il nome della classe anche in questo caso non c'è bisogno di creare una classe proprio virtuale non è classroom è solo un modo attraverso il quale con un tag vengono identificate le risposte da parte dei ragazzi alla conclusione della loro verifica poi teacher id siete voi scrivete il vostro nome non sarà naturalmente editabile può essere visibile o meno questo dipende dalle vostre scelte quindi abbiamo visto sempre nella parte di identificazione del widget queste opzioni poi abbiamo le opzioni relative alle email e va bene queste riguardano la scuola potete compilarlo invece più interessante è l'opzione di esame perché se è attivata voi potete stabilire il tempo in minuti 20 minuti 40 minuti 50 120 quello che è e poi potete decidere di dare o meno l'opzione ai vostri studenti di resettare tutto e rifare vediamo come funziona facciamo un preview ecco io sto compilando arrivo a un certo punto così non sono convinto di quello che ho fatto ed ecco che ho il cestino e posso ripulire tutto e ricominciare si tratta di scelte pedagogiche che ho già spiegato in un altro webinar e che dovete valutare per conto vostro quindi queste le opzioni di identificazione del widget vediamo quali sono invece le impostazioni generali le impostazioni generali ne vediamo alcune delle principali riguardano per esempio la correzione opzioni di correzione stabilite che lo studente possa vedere le risposte sbagliate e anche la correzione cioè dove ha commesso gli errori sì no e se sì lo potete potete anche proteggere questo dato inserendo una password se non inserite una password lo studente potrà vedere automaticamente i risultati in questo caso voi attraverso una password potete dire agli studenti di aspettare che tutti abbiano finito stanno lì con il loro quiz aperto e poi darete la password in modo tale che tutti contemporaneamente possano vedere quali sono i risultati decidete se mostrare il punteggio totale al termine della verifica eventuali colori da inserire e altri dettagli vediamo adesso quali sono le opzioni relative al punteggio potete decidere se ogni domanda mostra anche il punteggio relativo alla domanda stessa qui si tratta di valutare se per determinate domande volete appunto mostrare o meno questo punteggio in base a criteri pedagogici cioè non volete per esempio che lo studente faccia una scelta abbandonando le domande con minori punti per dedicarsi a quelle invece che offrono un punteggio maggiore insomma sono cose anche qui che dovete decidere voi sharing le opzioni di sharing sono relative al fatto che lo studente possa inviare il widget a qualcun altro download download permette allo studente di scaricare il pdf del compito che sta svolgendo domanda questo pdf può contenere anche la soluzione o no della verifica beh la decisione anche qua è vostra start up password significa che potete decidere di inserire una password per cominciare il quiz per quale motivo potreste essere a distanza o anche in classe ovviamente il quiz è online tutti l'hanno a disposizione nel momento in cui tutti sono connessi e hanno la richiesta della password di fronte a sé voi a questo punto potreste comunicarla agli studenti per fare in modo che tutti partano allo stesso orario poi ecco interessante questa l'ordine delle domande e la loro numerazione volete stabilire che all'interno del widget le domande siano mescolate per ogni studente se è sì attivate questo check volete anche che la numerazione delle domande sia rifatta e quindi non ci sia la possibilità che lo studente dica nonostante l'ordine sia mescolato che lo studente possa chiedere a un suo compagno scusa la 13 qual è la risposta della 13 ecco quindi avete queste due opzioni calculator significa che potete offrire agli studenti la possibilità di utilizzare una calcolatrice digitale scientifica come vi ho mostrato poc'anzi infine diamo un'occhiata a localizzazione e design localizzazione vi consente di tradurre tutto ciò che riguarda la struttura che in questo caso è in lingua inglese dell'applicazione in italiano oppure in un'altra lingua basta inserire qui la traduzione dei testi che sono rappresentano la raccolta di tutte le frasi le parole che compaiono all'interno del widget ciò che è interessante sapere è che una volta fatta questa operazione per un widget rimane anche per gli altri a meno che non ci siano delle frasi diverse quindi è un lavoro che porta via un pochettino di tempo ma che offre veramente un risultato interessante ultima questione il design il design potete inserire un'immagine di riferimento un logo questo è il mio logo personale di Dadex questa piratessa e poi stabilite qualche indicazione sulla modalità di visione del widget come si somministra il widget attraverso il pulsante di sharing abbiamo due opportunità associarlo a un google classroom in questo caso vedete che abbiamo aperto diversi corsi scegliamo il corso di riferimento per esempio questo che è un corso di prova per fare proprio questo tipo di esempi per i docenti e poi decidiamo se spedirlo direttamente oppure tenerlo come draft cioè come compito ancora in in bozza da consegnare in un secondo momento lui si sta collegando si è collegato basta spedito il compito così all'interno di classroom dove poi lo ritroveremo altrimenti l'altra opzione è di scegliere delle altre modalità e queste altre modalità riportano alla visualizzazione dei link quindi questo è il link principale che voi copiate oppure potete ritornare all'opzione di condivisione tramite classroom potete anche mostrare un codice QR di riferimento per cui molto comodo voi siete anche in classe oppure a distanza proiettate il codice lo distribuite i ragazzi con i loro strumenti svolgeranno il quiz quindi ripetiamo le modalità di sharing riguardano la possibilità di inserire il widget all'interno di un corso di classroom naturalmente vi dovete connettere potete anche avere diversi account vedete vi connettete con l'account google di riferimento poi lo stabilite in un corso oppure scegliete altre opzioni che sono queste potete anche inviare il widget a un collega attraverso questa opzione show teacher link perché show teacher link vuol dire che voi condividete questo widget con un altro collega che lo può utilizzare modificare e poi ripubblicare mantenendo lo stesso link quindi può aggiungere le sue modifiche o le sue integrazioni e il link rimane lo stesso quindi non viene creato un altro widget oppure può decidere semplicemente di fare una copia e rinnovare quindi il link che nel qual caso voi avrete voi e il vostro collega avrete due widget che sono nati da un unico widget ma che hanno delle funzioni di contenuti leggermente diverse poi vabbè c'è l'opzione per email la solita opzione quale che sia la modalità di consegna della verifica da parte dello studente in modalità automatica attraverso il compito di classroom oppure individuale voi avete un report dei risultati il report dei risultati si trova nella sezione grade e reporting che è una sezione che io non vi posso mostrare completamente perché naturalmente ci sono i dati dei miei studenti quindi non ve li posso mostrare vi posso mostrare però una sezione particolare che ho creato giusto per farvi capire come funziona allora siamo all'interno della classe che si chiama coronavirus classroom vi ricordate l'avevamo inserita nelle opzioni generali del widget che abbiamo creato e poi siamo all'interno di un gruppo il gruppo è classi quarte quarte c ed così ho trovato questo nome perché tutte quindi le verifiche che corrispondono a queste due caratteristiche cioè che appartengono a coronavirus classroom per prove con docenti e fanno parte del gruppo classi quarte c ed saranno raccolte tutte in un unico ambito che è quello che adesso vi mostro naturalmente qui abbiamo un solo studente che si chiama studente di prova è la compilazione del tiramisù le percentuali naturalmente corrispondono a zero ma altrimenti voi avreste delle percentuali che vi aiutano a capire quali risultati gli studenti hanno ottenuto per ciascuna domanda e quindi vi aiuteranno anche a modificare poi questo widget oppure a crearne degli altri di supporto per i motivi che ho spiegato prima voi vedrete qui un solo studente appunto allievo di prova che tra l'altro non ha compilato niente se fate clic troverete proprio il il modello con tutte le domande le risposte che ha dato i punteggi che sono stati eventualmente assegnati e potete anche scaricarvi il pdf e conservarvelo oppure stamparlo consegnarlo alla segretaria della scuola eccetera potete anche archiviare una volta che avete corretto tutto archiviate archiviate fa parte di un ambiente nascosto che potete visualizzare tutte le volte che volete ma in questo modo non intasate il sistema di raccolta di book widget con centinaia di prove nomi di studenti e così via in ultimo un accenno alla funzione live di book widget che è questa la funzione live di book widget vi consente di controllare a distanza l'operato dei vostri studenti in tempo reale proprio mentre operano ho già dedicato un piccolo intervento di qualche minuto che voi ritrovate su questo tema che vi rappresenta proprio una registrazione svolta durante una reale verifica fatta con gli studenti fate click sul widget che avete somministrato e avrete un pannello che mostrerà proprio tutti i nomi degli studenti e domanda per domanda quello che stanno facendo come va avanti la compilazione ma vi invito a guardare questo intervento che è stato opportunamente tagliato per le questioni di privacy ma vi consente veramente di entrare all'interno di una classe virtuale dove voi potete controllare effettivamente quello che i vostri studenti stanno facendo a questo punto noi abbiamo concluso il nostro webinar ritorniamo al slide per dirvi che cosa per dirvi che ho prodotto tre puntate su book widget e sull'impiego pedagogico dei suoi strumenti più un webinar che avevo predisposto con Bart che è uno dei fondatori di book widget nel 1917 che ho riproposto perché quello che spiegavo allora ha una sua utilità dal momento che questo webinar iniziava con alcune questioni di tipo pedagogico quindi per quanto riguarda questo tema per il momento è tutto vi invito a tenere presente i vari ambiti dove voi potete trovare i webinar e i miei interventi su book widget e vi auguro buon lavoro con questa applicazione ciao a tutti